buongiorno a tutti ragazzi e oggi siamo qui anche se con un giorno di ritardo infatti mi scuso ma ieri proprio non ce l'ho fatta non ho avuto assolutamente tempo per registrare questo video video che praticamente decreterà il vincitore del contest che avevo fatto la settimana scorsa di max and the brotherhood per xbox one prima però di procedere con l'estrazione del vincitore mi volevo un attimo soffermare su un discorso che ho visto che anche il mio collega svarioken ha fatto nel suo ultimo video a proposito appunto dei contest cioè cristo santo io adesso io non voglio dire nulla io sono un canale emergente sono un piccolissimo canale non sono nessuno però mi ha fatto molto molto male sono stato molto molto deluso dal fatto che su 435 iscritte che ho in questo momento in cui registro il video cioè quattro persone hanno partecipato al contest cioè quattro fottute persone su 435 adesso io per carità non fraintendetemi io non voglio dire che tutti quanti debbano partecipare che tutti quanti devono per forza avere un xbox one cioè io capisco che tanta gente non ha appunto non alla console o può avere qualsiasi altro tipo di sbattimento però porca puttana cioè 435 persone e quattro persone cioè a sto punto che cazzo serve fare i contest cioè vi allora adesso parlo per me ma mi sento di parlare anche per altre persone cioè alla fin fine vi vi regaliamo i giochi ci sbattiamo per farvi video quando possibile quando non ci sono altre incombenze cioè a voi non mi costa nulla almeno abbiate la grazia di partecipare a un contest se avete la possibilità di farlo cioè anche quando ci sono in palio giochi per pc non venitemi a dire che nessuno ha un pc nessuno ha steam per partecipare a un cavolo di contest se no a sto punto cioè cioè adesso io veramente non so neanche mai più se ne farò uno perché a ero cioè sono stato veramente felice di fare questo contest perché ho detto beh dai sono 435 iscritti metto cioè non ho messo il primo gioco del cavolo che mi è venuto sotto mano o quello che ti danno gratis o quello che ti danno chissà chi cioè ho voluto mettere un giocone perché alla fine i giochi xbox one non è che li mettano tutti quanti qua su youtube e quindi ho detto beh dai spero che così magari alla gente piaccia quello che faccio e magari mi rendano orgoglioso che così magari più avanti ne metterò altri perché se vedo che c'è l'incontro della gente è anche logico che dopo questo io ne metta altri però ragazzi c'è quattro persone allora cioè non so cosa 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 dire veramente cioè sono sono deluso devo dire la verità sono deluso e è anche per questo che ultimamente faccio anche pochi pochi video non so neanche se la gente se ne sia accorta che faccio meno video di prima perché tanto ormai youtube cos'è che è diventato io me ne sono accorto a mie spese nel mio canale tu fai il video la gente passa neanche guarda il video perché perché forse la gente non lo sa ma chiunque abbia un canale youtube sa se la gente che passa guarda il filmato il video in questione oppure no quindi c'è c'è gente che viene nel tuo canale non guarda il video e ha la presunzione di scrivere nel commento passa da me restiamo attivi iscritto ricambi ma andate a fanculo cioè io non vado nel canale di un altro non mi guardo neanche il suo video e gli scrivo passa dal mio canale cioè ma stiamo scalzando cioè non lo so almeno abbi almeno almeno abbi la decenza di vedere una porzione non voglio che lo guardi tutto il video guardane una cazzo di porzione accetto anche che tu mi dica il tuo video fa cagare però mi devi scrivere un commento cioè eventualmente tu non mi devi dire imporre ok adesso passa da me perché tanti mi hanno scritto bon adesso ho guardato il tuo video adesso devi passare da me cioè ma devi cosa io cosa devo fare io sono obbligato a venire nel tuo canale a vederlo perché tu mi hai messo un cazzo di commento cioè ma ci rendiamo conto cosa sta diventando anzi no cosa è cosa sta diventando cosa è youtube italia adesso in cui cioè io parlo da quando ci sono io cioè due mesetti tre non so neanche quanto sono cioè adesso non so se prima era meglio di così mi auguro di sì o se anche prima era la stessa merda di adesso perché così come adesso non ha molto motivo di esistere cioè ha motivo di esistere per i grandi youtuber quelli noti a tutti ma per per i piccoli canali emergenti cioè è tutto un iscritto di cambi passa da me dal mio canale e questa cosa qua non ho sinceramente io non l'accetto e spero cambi e spero che abbia ancora la motivazione per fare altri video di portare altri video nel mio canale perché così cioè non la ripeto sono deluso e amareggiato e questo contest che ho fatto mi dà la prova che quello che penso io non è affatto sbagliato comunque dai scusate questo sfogo ma ti rode dentro e prima o poi cioè passa un giorno passa due giorni e prima o poi lo devi dire e siccome che c'è una cosa che si stanno lamentando un po' tutti ultimamente e anche io ho voluto dire la mia comunque dai non importa passiamo all'estrazione del contest e vediamo chi si aggiudica il gioco allora selezioniamo il vincitore ok il vincitore è Andrea Albi Lilly Kim quindi Andrea adesso se chiedo gentilmente di contattarmi tramite youtube mi scriva un commento privato in cui dice che ha vinto il contest e poi io gli manderò appunto il codice per scaricare il gioco bene congratulazioni ancora ad Andrea per aver vinto il contest mi scuso per lo sfogo però ci sta mettetevi anche voi un attimo nei miei panni ma se anche voi siete tra virgolette youtuber come me sapete ultimamente come stanno andando le cose con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao